E carissimi bentrovati, oggi domenica dobbiamo anche, credo sia opportuno, fare anche un brevissimo video di riflessione su Alice Neri per fare anche qui un focus, un chiarimento più che altro. Ora ho notato tutte queste polemiche perché si sono sollevati dubbi, specialmente in relazione al terzo uomo, ai suoi movimenti che sono stati verificati, ma perché questi dubbi eccetera. Ora, da parte mia perlomeno io non parlerei di dubbi, io parlerei di riflettere su ciò che è trapelato, su ciò che è stato detto, su ciò che è stato scritto, su quello che è andato in tv, che poi ovviamente ai fini pratici, cioè ai fini dell'inchiesta, non hanno rilevanza. Questa è altra cosa. Però è indubbio che se si ragiona, secondo i cosiddetti schieramenti, allora c'è chi non vuole proprio sentire parlare di nulla perché ormai il caso è chiuso e c'è chi dice no, ma voi non avete capito niente perché qua, perché là. Io mi attengo ai fatti, con i piedi per stessa, e allora su quello che abbiamo riflettuto insieme, anche per quanto riguarda il terzo uomo, io dico semplicemente questo oggi. Dico, ma alla fine il peggior alleato, ecco, il peggior alleato di questo terzo uomo è proprio la moglie perché la moglie dice purtroppo delle cose e magari in perfetta buona fede rilasce delle dichiarazioni contrastanti che avrebbe fatto certamente molto meglio a non parlare, non dire niente perché prima minimizza del tutto, poi crea alibi contrastanti e poi quando abbiamo sentito quella famosa intercettazione in cui lei dice, attenzione, attenzione, dice, andiamo là oggi, lui risponde, a fare che, lei dice, a vedere quello schifo, allora lui risponde, ma io non lo so neanche dov'è, e lui dice, ah non lo sai dov'è, un po' piccata, no? Non lo sai dov'è, dove andavi tutte le mattine, non lo sai, eh? Quindi è ovvio che potrebbe, a un osservatore, diciamo superficiale, si potrebbe dire, allora lei dice che andava tutti i giorni là ai laghetti a vedessi con Alice, è ovvio che lei non conosce la zona e quindi può dire semplicemente, ah beh, la zona dove li andavi a vedere perché lei non sa, quindi io non credo proprio che ci sia un riferimento specifico e che la mattina veramente poi si vedevano ai laghetti, no perché da quello perlomeno che si vede, si vede anche dalla morfologia del territorio, per quello che ne posso capire io, sarebbe stato, diciamo, molto disagevole fare tanti minuti di macchina per vedersi quando poi è stato accertato che si vedevano altrove, no? Eh, diciamo, quindi, quindi non credo che sia così. Però, però, cosa emerge da ciò? Emerge una moglie molto seccata, celosa, molto seccata, che fa emergere il dato che lei sapeva o ha saputo dopo che si vedevano tutte le mattine o quasi tutte le mattine. E questo è un dato sul quale riflettere per evidenziare una ossessione di questo rapporto. Un rapporto che si basava non solo sulle ore di lavoro, che sembra non erano nemmeno tanto serene, diciamo così, ma quando la necessità tutte le mattine o quasi tutte le mattine di vedersi prima, tipo 5 e mezza, 6 e meno un quarto la mattina e poi spesso, ecco, anche dopo c'era una sorta di controllo. Quindi c'era questa ossessione che è emersa come dato oggettivo, che poi non c'entri niente, diciamo, nel evento fattuale dell'omicidio. Questo può essere. Quindi, però, però, sicuramente è così. Però, ora vi dico un'altra suggestione, ecco, sempre per la stranezza di questo comportamento. Poi magari non c'entra niente, però, vedete, noi abbiamo sempre parlato di cosa? Del Nicolas, il marito, che, se è un quarto, se è venti, no, quando si sveglia, fa una serie di telefonate sul cellulare di Alice, telefonate che a lui sembra, insomma, che vengano respinte perché ne fa, non so, certamente più di una decina, e vengono respinte perché da lì ne accade dopo pochi secondi o un po' di più. E quindi è un marito che cerca apprensivamente questa moglie. Ma il terzo uomo, ecco, dico io, non c'è traccia di una sua telefonata, nemmeno una volta, nemmeno di un messaggio. Cioè, non si preoccupa, voglio dire, se lui la mattina aveva l'abitudine, diciamo così, di fermarsi a parlare, il caffè, aveva questa sorta di ossessione, di vedersi con Alice. Ma quella mattina del 18, quando lui va al lavoro, che magari non l'ha vista, e va al lavoro, però non si preoccupa di non averla vista comunque, perché lui senz'altro sa che Alice doveva andare lì a lavorare con lui, alla stessa ora. Quindi, a quel punto nemmeno fa un messaggio, una telefonata per dire, fammi vedere come mai che non è venuto, che non l'ho visto, che non è venuto al lavoro, vedete? Non c'è nulla, non c'è nulla. All'improvviso, questo terzo uomo, già il mattino del 18, quel mattino del 18 alle 7 di mattina, o anche prima, non la vede e non la chiama, non la messaggia, non gli sembra strano, non gli sembra strano anche a lui, che lei non arrivi al lavoro. Poi, sembra che qualche ora dopo, non so, ma sempre il 18 pubblica quello strano posto inquietante, delle fiamme, eccetera, eccetera, quella frase biblica, che poi la toglie, e poi comincia a cancellare tutto, quando comincia a divare le prime notizie, evidentemente, ma comincia poi a cancellare tutti i contatti, il numero telefonico, dice, tanto è mostro e poi, perché anche se vuoi ci escono anche me, cosa? Quindi, questo è un altro aspetto sul quale non abbiamo mai riflettuto insieme. Io credo che lui, dato il rapporto particolare, almeno l'avrebbe dovuto cercare di contattare quel mattino, è cosa che non è avvenuta. Quindi, poi, non l'ha vista sicuramente, non c'entra niente sicuramente, le verifiche degli inquirenti sono state fatte, però qua parliamo anche di vedere se questo Galul ha delle responsabilità esclusive o ha delle responsabilità in complicità con qualche altro. Qual è effettivamente il ruolo del Galul? Se è uno che gli è balzato alla testa di andare lì, alle tre di quella notte, casualmente è andato lì, casualmente è andato in quella macchina, casualmente l'ha uccisa e casualmente l'ha incendiata o ha obbedito a altre direttive o a altre circostanze. Questa è la suggestione. Quindi, questo è, poi, gli inquirenti, per carità, fanno tranquillamente il loro lavoro. Il ruolo di Galul è ancora da definire. L'ultima cosa che volevo dire semplicemente è che, perciò le analisi sui resti di questi giorni saranno fondamentali, quindi anche sui pantaloni in particolare, perché è impensabile che su nessuna di queste cose, anche sui pantaloni, non ci sia alcuna traccia di Galul. Questo è impensabile che possa non esserci. Poi, riguardo a quelli che ho letto, ma perché allora non si è trovato il giubbotto, non si è trovato le scarpe, ora bisogna fare due tipi di considerazione qua. Una, perché bisogna entrare nell'ottica di queste persone che io, anche in zona qua conosco, sono persone un po' hanno un modo di vivere strano, diciamo così, per noi. Cioè, loro si spostano, lasciano le cose qua e là, da conoscenti, oppure dove lavorano, dove si trovano anche momentaneamente, quindi non hanno, non sono stanziali che hanno queste abitudini di mettere le cose a posto, ma certamente gli inquirenti, magari seguendo il suo percorso, potranno trovare qualcosa, però quello che io dico, no? Se si batte tanto, specie sulle scarpe, no? Si dice sulle scarpe, allora le scarpe sicuramente saranno pregne di quest'olio esausto, però è anche, è anche vero che se si stabilisce che il pantalone è quello, noi non possiamo pensare che buttando quest'olio esausto nella notte così, le scarpe vengono impregnate e i pantaloni che arrivano fino alle scarpe non ci sia uno schizzo anche sui pantaloni, quindi è ovvio che comunque, se i pantaloni sono quelli, comunque ci deve essere traccia anche su quello. Sicuramente, non è che si sporcano tutte le scarpe e i pantaloni, specie sull'orlo magari dei pantaloni, sulla parte finale non ci sia niente, quindi diciamo cambia poco alla fine, quindi ecco che ci si aspetta molto, quindi anche dalle analisi tecnico-scientifiche. Questa era la riflessione di oggi, semplicemente vi auguro una buona serata e a domani un abbraccio a tutti quanti voi. Grazie.